dai dai accendere 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 no con questa non la puoi fare con questa non riesci non riesci vuoi provare ma non ce la fai non ce la fai c'è sul bauletto anche davanti c'è poca scelta c'è poca scelta qua ascolta adesso va bene tutto ma rischiare la vita no e vai a fare il pannicone che controllo che controllo che piede